Salve gente, sono Larus e qui su Crusaders Kings 2 con la nostra dinastia. Nell'ultima puntata abbiamo migliorato un po' le leggi del regno. Abbiamo iniziato con la legge di elezione, che è praticamente una legge di successione, che adesso non c'è più quella di anzianità, ovvero il membro più anziano della dinastia ereditava tutto, bensì quella di elezione, che i conti si mettono a eleggere un membro della dinastia o non. Può essere anche un membro, un conte alla fine, non necessariamente la dinastia. Ovviamente le dinastie di solito hanno più probabilità di essere eletti, ma di solito no, però potrebbe anche accadere che qualche conte a caso possa essere eletto. Una cosa molto particolare, molto rara, però può accadere. E quindi è una buona cosa anche questa. Ovviamente, cambiando la legge di successione, molti ci odiano un po'. Per esempio, si sono create due fazioni. Conte e Nicolas rivendica il Piemonte e la successione di anzianità per i Savoialdi. Direi di ammazzare il conte e Nicolas, più tardi magari. Però direi di ammazzare Conte e Guglielmo di Monferrato. Controppo è un mio parente, però non voglio avere troppi problemi, quindi lo ammazzo. Vediamo un po' chi vuole entrare nel complotto. Non troppe persone. Intanto avanziamo un attimo. Ah sì, inizio ad entrare alcuni. Ah, salve Anza. Un mio cortigiano? Vuoi sposare? E mi dai 249 oro. Perché no, dai. Ora, terresto... Sì, tutto ok. Bene. Vediamo un tanto se riusciamo a uccidere Conte e Guglielmo di Monferrato. Sì, dovremmo... Dovremmo farcela. Tanto la velocità di rinforzo truppe è aumentata nel 50%, una buona cosa. E abbiamo chi di prigioniero? Conte di Napoli. No, no, me lo tengo ancora. Intanto, io... I miei piani per il futuro sono... Aspetta. L'attrazione fra me e mio marito Obery ha cominciato lentamente a scomparire. Ho realizzato che questo durava da qualche tempo, quando, settimana dopo settimana, usavamo la stanza a letto per dormire e non per divertirci come facevamo prima. Voglio sfidare Obery in un vero e proprio rodeo. Voglio assicurarmi che Obery... Che Obery... Che cavolo vuol dire? Voglio assicurarmi che Obery chi è padrone in camera da lei. Sarò dolce con lui oppure facciamo amore dolcemente? Sfidiamo in un rodeo, dai. Non riesco a smettere di pensare che di quei prigionieri nelle mie segrete sono alla mia completa mercè. Che emozione sarebbe far loro del male? Sentire i loro dolci urla. Vedere il panico negli loro occhi. No, guadagniamo pietà. No, perde il tratto arbitrario. Va bene. Intanto vediamo la sorpresa che mi ha fatto mio marito. Se funziona. Se funge. Tanto che ci fa la Svezia con dei territori qui. Ma... La Svezia. Chissà. Ok, intanto però... Ci sono bambini senza tutore. Melisand. Ti faccio educare da Raimundo, cancelliere. E se di cultura... Castigliana? No, non va bene. Facciamo di cultura... Franca. E' da Conte Pera, dai. Intanto vediamo un po' nel mondo... Come va la situazione. Uff, uff, uff. Qua va un po' male. Intanto qui... Conte Andreas. Il suo erede è sempre questo figlioccio qui. E non è... Invece... L'alto Andreas. Peccato. Devo di uccidere... Attraverso un agguato. Quello che voleva rivendicare Guglielmo di... Di Monferrato. Nella casa Brancazzo. Hanno scoperto il complotto. Azzazzazzazz... Non va bene. Ah, la Contessa di Arbaracin. Tratta il complotto contro i me. Non va bene. Non va bene. Dobbiamo ucciderlo. Se no entrano troppe persone nella successione di anzianità. E non è che mi va genio. Sti problemi per successione. Vediamo un po'. Oppure posso anche pagare qualcuno per ucciderlo. Solo che spendere troppi soldi. Adottiamo l'idea del maresciallo che così aumentiamo la tecnologia. Devi pagare qualcuno? No. Non paghiamo nessuno. Però... Ah, non so cosa fare. Tanto, in ogni caso, costruiamo qua una lizza da giostra o qualcosa del genere. Una caserma, dai. Miglioriamo le caserme a Ginevra. Molto bene. E siamo diventati un po' vecchiotti adesso. Mi ho superato 50. Abbiamo i capelli bianchi. Viviamo un po' di più rispetto a prima. Ok, il Papa Ilari ha aumentato l'opinione dei nostri confronti. E anche lui ha detto l'inesperto. Ok, facciamo esplodere della merda. Di solito... Un buon piano. Non hanno scoperto la merda, quindi non va bene. Tanto, l'eleganza è atica vuole sposare qualcun altro? Senza soldi, così. Rifiutiamo, no. Voglio i soldi dall'eleganza è atica. No, 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 no. Chi è che fa parte dell'Ansa? Solo la città di Lubecca al momento. Pare che facessero parte dell'Ansa. Molte città, però. Della Germania del Nord. E anche qualche città danese, credo. Non mi ricordo bene, però... Un po' di città del Nord. Estrid. Ah. Vuoi sposare... Far sposare dei tizi a altri tizi? Tu sei già sposata. Sì, vabbè... Ma sì, dai, sposatevi pure. Intanto sono tra cortigiani. A me non... Non importa. I cortigiani sono molto... Molto inutili. Non servono assolutamente a nulla. Semplicemente timido. Facciamoli perdere il tratto timido, allora. Bene, bene, bene. Tanto qui c'è la Finlandia. Sì. Missione diplomatica ha avuto successo. E ora direi di... Fare due cose. Uno. Andare... No, sempre... Stare qui. Anzi, faccio una rete di spie che... No, no. Non in Piemonte. Volevo fare in Monferrato. Pazienza. Tanto andiamo in Piemonte e aumentiamo l'opinione. Che hanno i vassalli nei miei confronti. Volevo mandare alla spia in Monferrato che così aumentavano la chance di uccidere... Tizio Caio. Come si chiama? Non mi ricordo. Quello lì che... Guglielmo di Monferrato. Sì, devo ucciderlo. Devo ucciderlo. Perché non vuoi morire? Oltretutto mi odia perché ha scoperto il complotto. Sì, le strade sono trappole mortali. Va bene. Ah, non... Non ce la fanno ucciderlo. Impossibile. C'è anche il Conte Pera che vuole ucciderlo. Dai. Ahà. Ok, devo aumentare... Migliorare il mio giardino. Quindi andiamo così. Intanto in Monferrato. Oh, il Candiferro. Ho sbucato... Tamerlano. Tamerlano chi era? Il Capo dei Timuridi. Che... Fece un impero un po' grande. Abbastanza grande. Grande quanto la Persia. Arrivò anche in Anatolia. Poi fino in Tibet. Dall'Anatolia in Tibet, più o meno. Sì, in India non ci arrivò. Forse il Tibet vente dall'alto pieno dell'Himalaya. Conquisto un bel po'. Solo che... Appena morì... Non durò abbastanza. Dei Timuridi. Tamerlano. Mi pare che fosse Zoppo. Sì, Storpio qui. Però... Anche se Storpio è molto... Era un tizio cazzuto. Tanto dovrebbe sbucare qui. Tipo qui, qualcosa del genere. Ok, siamo diventati giardinieri. Molto bene. Aumenta la... Diplomazione alla rete di spionaggio a Monferrato. Scoperto un'assessualità di un corte... Locale. Ah... Facciamo... Ricattiamolo. Chiamata alle armi... Contro... Chi è Simildi Valdese? Scusa. Sì, va. Accettiamo. Ma dove sta Simildi Valdese? Ah, è qui. Valdese si sta ribellando. La fazione. È una fazione abbastanza particolare. Il suo cognome è Valdese si sta ribellando. I vecchi in una scuola. È di lui. La professoressa lo chiama. Dice... Valdese è presente... Valdese si sta ribellando? È presente? Sì, è presente Valdese si sta ribellando. Ma è morto praticamente. Ah, resisto sempre alle tentazioni sadiche, però... Che sarebbe bello torturare un po' di gente. Solo che non voglio rendere il regno di Napoli un po' incazzato. Quindi lascio stare. E dobbiamo conquistare la Lombardia, a proposito. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Dai, uccidiamolo, uccidiamolo, uccidiamolo. Sì. Simil di Valdese è morto. No, incarcerato. Ok, l'abbiamo ucciso. Bene. E adesso è rimasto... Conte Nicolas, l'ultimo dei Savoia. Devo deciderlo. Che così... Anzi, vediamo quanti Savoia sono rimasti. Venti. Però il casato principale si è stinto. Da una parte sono tutti brancazzo. Dall'altra ci sono... Sì, alla fine... Sì, sono più o meno tutti estinti. Un casato morto ormai. Sono molto lontani almeno. È rimasto solo il ramo di Nicolas. Sucidiamo Nicolas, però... Non ci dovrebbero essere più problemi. Ci chiamano gli ultimi Savoia. Savoia... Credo che sia una casata... Che storicamente è una di quelle... Casate nobili... Che è durata per tantissimo. Cioè, dal... Dai tempi di Ottone I c'era. Ah, ti vuoi sposare con Bella, Sex? Tanto, sto facendo... Sto guardando con chi si potrebbe sposare. Ma sì, dai, faccio sposare Bella, Sex. 406 denari sono tanti. Accettiamo. Abbiamo venduto la nostra figlioletta. Bella, Sex. Intanto qui... I contadini sono in agitazione. Beh, intanto non mi serve più il... Il tizio lì. Attualmente in Monferrato. Ma mandiamoli in Piemonte adesso. Così riusciamo a uccidere l'altro tizio. Tu sei Nicolas di Savoia. Sì, mi sto senti... Intrigante, bene. Duca di Capua? Negli angiolini? No, non ti faccio sposare con nessuno per il momento. Andiamo un po'. Ok, se ti faccio sposare con... No, con nessuno, va. Però ci sono tanti figli. Peccato. Dispiaciato però... È un fatto strano che il principe del Sacro Manimpero non sia... In realtà... Che cazzo è successo? Irlanda. Regno di Irlanda. Sì. Tanto tu vuoi sposare Bella, Sex, brancazzo. Ma no, ho rifiutato prima. Vabbè, comunque, è meglio così. Principe francese... Cazzo ci vuole l'Irlanda con tutti questi territori. Oddio, l'Irlanda. Ah, perché si sta ribellando contro l'Inghilterra. Sì, va bene. Adesso siamo in guerra contro... Rivendicazione di Principe Geoffrey su Francia. Rivendicazione di Re Philippe su Francia. Il saggio dei Capetingi. Solo che fossero tutti morti i Capetingi. Sì, qua la Francia non ce la fa. Però comunque io nominalmente sono dalla loro parte. Però vi entro, non farò nulla. Tanto. Il mio intendente, Ferrandi Vilena. Che è spagnolo, credo. Dal nome. Sì, è catalano. Lo mando a Ginevra. A fare un bel po' di robe. Carine. Tanto a... A Palencia. Che città brutta come nome. Facciamo un torione? No. Facciamo... Qualcosa a Saluzzo? Una fortificazione? No. Un torione qui. Va. Un torione a Saluzzo. Ok. Intanto... La Lombardia dovrei invaderla. Se approviamo il piano... Ah, mi hanno dichiarato guerra i Lombardi. Mierda. Allora muoviamo tutti i tizi... Kai, Semproni... Qui. Ah, beh. Non importa, dai. Possiamo chiamare in guerra qualcuno? Eri chissaggio solo. Ah, tu non sei sposato con nessuno? Scusa. Se faccio sposare... La mia figlia... La mia figlia... Te. Con il Kaiser del Sacro Romano Impero? Eh sì, che ti va. Però per via patrilineare non importa. Ok. Bene. Ora. Direi. Mi servino... Eh, non mi servino. Mi servono un po' di mercenari. Direi di prendere di mercenari. Principalmente qualcosa che non costi troppo. Se una compagnia del genere può andare bene. Incontriamoci in Savoia. Un serpente. Lo vogliono utilizzare. Andiamo subito a Pavia a combattere. Battaglia di che? Abbiamo vinto una battaglia. Va bene. Sì, qua abbiamo perso un po' di tizi. E se non riuscite a uccidere... Il... Sì. Il conto di Piemonte è morto. Tu un po' mi odi, un po' mi ami. Parente stretto assassinato, vabbè. Ok, bene. Seguiamo lì a Cremona. E ora... Togliamo via i mercenari. Basta, così. Così che bisognerebbe utilizzare i mercenari. Più o meno. Utilizzarli solo per una battaglia e poi dopo basta. Ok. Tanto do' educare anche il... Ildegard Brancazzo. Che nome brutto. Ti mando... Con te. Vai così. Tu hai 14 anni, eh. Intanto qui che ci fanno della... Trinacria. Sì, la Trinacria che stanno sediando le mie province. Invece c'è una pace bianca. Sì. Ti andrebbe di fare una pace bianca. Però... Prendiamo gli strumenti di tortura, va. È morta. No. Vabbè, non importa. Però è sempre bello torturare. Vabbè, non è una cosa tanto buona da dire. Però comunque... Credo che abbia le sue soddisfazioni. Eh, ok. Ora ricerchiamo tecnologie... A Ginevra sempre. Che vogliono intendenti a manetta. Tanto. Chi è che sta fabbricando le rivendicazioni di Conti di Provenza? Dovrà smetterla. Deve di ucciderlo. Ronaldo. L'ho utilizzato la rivendicazione. Pace bianca. Bene. Qui stai vincendo? Kaiser. Sì, sta vincendo lui. La Moravia. Perfetto. Tutto andato bene. Ok. Tanto qui c'è anche la Bohemia che fa parte ancora del Sacro Humano Impero. Non si è ancora ribellata. Intendente Ferran. Probabilmente non pensava che avessi notato che qualche spicciolo qua e là fosse sparito ogni tanto. Ah, sì. Ah, interroghiamo Ferran. Ah, sì. Ci possiamo fidare. Boh. Non importa. Ci fidiamo di lui. A caso. La sedia della Lombardia è così finito. Così saccheggiamo anche la Lombardia stessa. Sediamo Milano, sediamo Milano, sediamo Milano. Ok, abbiamo sediato Milano. Saccheggiata. Per quanto abbiamo preso la saccheggia un po', credo. Ora stiamo saccheggiando la città di Como. Poi dopo la diocesi di Monza, poi il castello di Lodi e infine il castello di Chiavenna. Dopo dovremo assediare Brescia con Bergamo. La città di Brescia e la diocesi di Peschiera. Mai sentita? Poi Cremona. Sospiro, mai sentiremmo questa. E Crema. Credo Cremona. Però la città di Crema. Kaiser Andreas. Sì, sposatevi. Quindi la mia figlia è la Kaiserin. Nel Sacro Amano Impero. Che bello. Vedere i figli che diventano i Kaiser. Sì, onoriamo la chiamata alle armi. Ehm, tu ti arrendi? No. Va bene, allora combattiamo qui la battaglia finale. Dovremmo vincere qui. Ok, hanno ucciso un tizio. E hanno sbaragliato l'esercito. Che credo di aver vinto la guerra. Si sono arresi. Molto bene. Lasciamo stare tutte le truppe. Intanto mi dovrebbero attaccare la guerra. Oh, la sta perdendo alla fine. Ora c'è l'Irlanda dalla parte del Sacro Amano Impero. Ferran mi è morto. Oh, tutti gli intendenti che muoiono. Intanto andiamo a scoprire i complotti a Ginevra. Ricerchiamo delle ricerche tecnologiche a Ginevra sempre. Ok, un po' il mondo un po' in subbuglio. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. La Svezia, la Svezia è un po' incasinata, rivolte. Rivolte un po' qui, rivolte un po' là. La capitale è Amore. Poi la Norvegia se ne sta tranquilla. L'Irlanda, l'Irlanda, cioè il mondo. L'Inghilterra sta tranquilla anche lì per i cavoli suoi. La Francia è sempre guerra in testine. L'orda d'oro c'è. I Timuridi, guarda qui. Belli i Timuridi. Col capo Tamerlano. Però a 26 di marzialità è tantissimo. Chissà che è figo però fare una partita con Tamerlano. Andare lì e conquistare il mondo. Dovrebbe essere qualcosa di carinissimo. Conquistare il mondo con Tamerlano. Velocità e rinforza leve aumentata. Molto bene. Molto molto bene. E direi gente che per questa puntata è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Votate e commentate. Dalla restutto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti